C'è un'antica leggenda che narra di un tesoro, celato nelle magiche terre della bassa Romagna. Nessuno può dirlo con esattezza, ma si racconta di un paniere contenente sacre delizie, i sei sapori perduti. Le scritture descrivono un luogo misterioso, il Tempio del Gusto, e molti avventurieri hanno tentato in vano di accedervi. Ma la soluzione dell'enigma potrebbe essere una chiave, la caveia, che aprirà le porte del Tempio. Andate ora, che l'avventura abbia inizio! Il Tempio del Gusto 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 Il Tempio del Gusto